La Camera respinge. Passiamo ora ai pareri sugli emendamenti all'articolo 2. Qui sono tutti segnalati, quindi lascio a lei la parola, onorevole Buonafede. Grazie, Presidente. Il parere è contrario rispetto a tutti gli emendamenti. Grazie, onorevole. Ora il Governo. Anche per il Governo parere contrario. Grazie. Allora, passiamo ai voti. Prima votiamo l'articolo perché sono tutti emendamenti aggiuntivi. Colleghi, allora metto in votazione... C'è un po' di confusione al Banco dei Nove, state confondendo il relatore. Si vota l'articolo 2. Allora, metto in votazione l'articolo 2. È aperta la votazione. Carrozza, Bolognesi, Simoni, Cozzolino, Brunetta, Catania. Ci siamo? Trippiedi sta arrivando. Il posto... è chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo ora all'emendamento 2.01 Santelli. Parere contrario di Commissione Governo. È aperta la votazione. Capua, Dilello, Dilello, Bergonzi. Altri che non riescono a votare? Locatelli. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 2.02 Santelli. Parere contrario Commissione Governo. È aperta la votazione. Arlotti. Arlotti. Grazie. Grazie. Grazie.